Recitiamo il Rosario dei Misteri Dolorosi Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ame. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Mio Divino Gesù, ti offro per questa Corona del Rosario, che reciterò, contemplando i misteri della nostra redenzione. Concedimi, per intercessione di Maria, Tua Madre Santissima, a cui mi rivolgo le virtù necessarie per recitarla bene e la grazia di guadagnare le indulgenze legate a questa santa devozione. Io credo in Dio Padre Onipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, battì sotto Ponzio Pilato, fu crucifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi il terzo giorno risuscita da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Recitiamo tre Ave Maria per la fede, la speranza e la carità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre mia amata, Santa Maria, che sciogli i nodi che opprimono i tuoi figli, stendi le tue mani misericordiose verso di me. Ti do oggi questo nodo, nominiamo il nodo. Ed ogni conseguenza negativa, che esso provoca nella mia vita, ti do questo nodo che mi tormenta, mi rende infelice, e mi impedisce di unirmi a te, e al tuo Figlio, Gesù Salvatore. Ricorro a te, Maria, Ricorro a te, Maria che sciogli i nodi, perché ho fiducia in te, e so che non hai mai disdegnato un figlio peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere questi nodi, perché sei mia madre, so che lo farai, perché mi ami con amore eterno. Grazie, madre mia amata. Maria che sciogli i nodi, prega per me. Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. Nel primo mistero del dolore, contempliamo Gesù che prega nell'orto degli olivi, dal Vangelo secondo Marco. Giunsero intanto a un podere chiamato Gezzemani, ed egli disse ai suoi discepoli, sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi andando un po' innanzi, si gettò a terra, e pregava che se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva, Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Meditazione di San Francesco d'Assisi Guardiamo con attenzione, fratelli, il buon pastore, che per salvare le sue pecore, sostiene la passione della croce. Le pecore del Signore l'hanno seguito nella tribolazione e persecuzione, negli ignominia e nella fame, nelle infermità e nella tentazione, e in altre simili cose, e hanno ricevuto in cambio dal Signore la vita eterna. Perciò, è grande vergogna per noi, servi di Dio, che i Santi abbiano compiuto queste opere, e noi vogliamo ricevere gloria e onore con il semplice raccontarle. Amén. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amén. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. San Michele Arcangelo, prega per noi, e difendici contro le assalti del maligno. O Maria che scioglie i nodi, prega per me. Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù, dal Vangelo secondo Matteo. Pilato, quando vide che non poteva fare niente, e che anzi, la gente si agitava sempre più, fece portare un po' d'acqua, si lavò le mani davanti alla folla, e disse, sono affari vostri. Tutta la gente rispose, il suo sangue ricada su di noi, e sui nostri figli. Allora Pilato, lasciò libero Barabba, fece frustare a sangue Gesù, poi lo consegnò ai soldati, per farlo crucifiggere. Dall'Iscritti di San Francesco d'Assisi Tu sola, rimanesti unita al re della gloria, quando tutti coloro che egli aveva prescelto e amato, vinti dalla paura, lo abbandonarono. Tu eri con lui tra gli schiamazzi dei giudei, gli insulti dei farisei, i rimproveri dei principi, dei sacerdoti, con lui tra gli schiavi, con lui tra gli sputi, con lui sotto i flagelli, fino alla morte, e alla morte di croce, e tu non l'hai abbandonato. E persino sulla croce, il corpo in nudo, le braccia stese, le mani e i piedi conficcati al legno, tu soffrivi con lui, e nulla appariva in lui che gli desse maggiore gloria di te. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Sammi che l'Arcangelo, prega per noi, e difendici contro le assalti del maligno. O Maria che sciogli i nodi, prega per me. Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù coronato di spine, dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati, intrecciati una corona di spine, gliela posero sul capo, e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi, gli venivano davanti e gli dicevano Salve, Re dei Giudei. E gli davano schiaffi. Meditazione di San Francesco Dice il Signore Amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano. Infatti, veramente ama il suo nemico, colui che non si duole per l'ingiuria che questi gli fa, ma brucia nel suo intimo per l'amore di Dio a motivo del peccato dell'anima di lui. E gli dimostri con le opere il suo amore. Il servo di Dio non può conoscere quanta pazienza e umiltà abbia in sé affinché gli si dà soddisfazione. Quando invece verrà il tempo in cui quelli che gli dovrebbero dare soddisfazione gli si mettono contro, quanta pazienza e umiltà ha in questo caso. Tanto ne ha e non più. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen. Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia San Michele Arcangelo prega per noi e difendici contro le assalti del maligno O Maria che sciogli i nodi prega per me chi cerca una grazia la troverà nelle mani di Maria Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario dal Vangelo secondo Matteo giunti a un luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele ma egli assaggiatolo non ne volle bere dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte e sedutisi gli facevano la guardia al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna questi è Gesù il re dei giudei Meditazione di San Francesco d'Assisi e tutte le creature che sono sotto il cielo ciascuna secondo la propria natura servono conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te e neppure i demoni lo crocifissero ma sei stato tu con essi a crocifiggerlo e ancora lo crocifiggi quando ti diletti nei vizi e nei peccati di che cosa puoi dunque gloriarti in questo possiamo gloriarci nelle nostre infermità e nel portare sulle spalle ogni giorno la santa croce del Signore nostro Gesù Cristo Ame Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia Samichel Arcangelo prega per noi e difendici contro le assalti del maligno O Maria che scioglie i nodi prega per me chi cerca una grazia la troverà nelle mani di Maria Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù sulla croce dal Vangelo secondo Luca era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio il velo del tempio si squarciò nel mezzo Gesù gridando a gran voce disse Padre nelle tue mani consegno il mio spirito detto questo spiro Meditazione di San Francesco d'Assisi Allora Cristo Gesù nostro Salvatore gli apparve e disse Francesco segui me e cerca di ricalcare le orme della povertà e dell'umiltà nella mia vita la mia croce sia il tuo riparo e il mio amore la tua vita la mia morte tua speranza e resurrezione gli obbrobi le bestemmie e le delisioni rivolte contro di me siano onore benedizione e tua raccomandazione sia la tua vita gaudio e gloria sostenere la morte e i tormenti per me nulla voler possedere sotto il cielo sia tua eredità e tua ricchezza sublimità refrigerio con esaltazione sia umiliarti davanti a tutti e godere di essere afflitto e vilipeso per il mio nome Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori e benedetto il frutto del tuo seno Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori prega per noi peccatori e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia San Michele Arcangelo prega per noi e difendici contro le assalti del maligno O Maria che scioglie i nodi prega per me chi cerca una grazia la troverà nelle mani di Maria Salve Regina Madre di Misericordia Vita Dolcezza Speranza Nostra Salve A te ricorriamo noi esuli figli di Eva A te sospiriamo Gementi e piangenti in questa valle di lacrime Orsu dunque Avvocata Nostra rivolge a noi gli occhi i tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno O Clemente O Pia O Dolce Vergine Maria Preghiera a Maria che sciogli i nodi Vergine Maria Madre del bell'amore Madre che non hai abbandonato un figlio che grida aiuto Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figli tanto amati perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione Guarda il cumulo di nodi della mia vita Tu conosci la mia disperazione il mio dolore sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figli ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto Madre Onnipotente con la grazia del tuo potere di intercessione presso tuo figlio Gesù mio salvatore ricevi oggi questo nodo dire il nodo che ci opprime per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre spero in te sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato sei la fortezza delle mie forze precarie la ricchezza delle mie miserie la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo accogli il mio richiamo preservami guidami proteggimi sii il mio rifugio ti prego umilmente sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabile Maria ascoltaci sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi la nostra angoscia e paura la non accettazione di noi stessi e della nostra eredità Maria ascoltaci sciogli i nodi della nostra possessione diabolica Maria ascoltaci sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nei rapporti con i figli Maria ascoltaci sciogli i nodi nella sfera professionale nell'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare con eccesso Maria ascoltaci sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e nella nostra chiesa che è una santa cattolica e apostolica Maria ascoltaci sciogli i nodi tra le varie chiese cristiane e confessioni religiose e dacci l'unità nel rispetto della diversità Maria ascoltaci sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro paese Maria ascoltaci sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere liberi di amare con generosità Maria ascoltaci Maria che sciogli i nodi prega per noi tuo figlio Gesù Cristo nostro Signore Amen Che Dio ci benedica faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti